Il salotto della civetta con Davide Pelanda Buongiorno a tutti e a tutte e bentrovati da Davide Pelanda, Caffè Italia Radio. Anche oggi parliamo di animali, parliamo di formiche. Ricordate, anche le formiche nel logo piccolo si incazzano? Era il titolo di un libro cult, la prima pubblicazione datata 1991. Più che un libro, era un formicaio con migliaia di battute, freddure e citazioni da film e libri. Raccolti e organizzati da Gino e Michele, coadiuvati dell'autore televisivo Matteo Molinari. Partiamo da questo formicaio di godibile lettura per parlare oggi delle formiche. Già, ma cosa servono le formiche in natura? Le formiche svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi in cui vivono e la loro sparizione può condurre a gravi squilibri economici. Le formiche, inoltre, disperdono molte specie vegetali, trasportandone i semi, migliorano la qualità del suolo e intervengono nel riciclaggio dei composti organici. Ma di quale grande famiglia le formiche fanno parte? Sono insetti imenotteri, appartenenti a una vasta famiglia che comprende oltre 14.000 specie. Una delle più comuni è la formica rossa, formica ruffa, diffusa in tutta Europa, Italia inclusa. Sono insetti eusociali che vivono, cioè in colonie strutturate in cui ognuno ha la sua mansione. In etologia, l'eusocialità, dal greco eu buono e socialità, è il livello più alto di organizzazione sociale che si realizza per alcune specie di animali. Nelle loro società, che variano in dimensioni e in organizzazioni a seconda della specie, vi è una classe riproduttiva, costituita dalle regine, femmine fertili e dai maschi, e una lavorativa, costituita da femmine attere e sterili, dette operaie. Le formiche sono notoriamente intelligenti. Lo si vede dal comportamento e dal tipo di organizzazione che si danno, tipo cooperativo sociale. Nonostante la stazza minuscola, questi animali possiedono un sistema complesso di comunicazione e una società piramidale. Si calcola che ci siano 1,5 milioni di formiche per ogni essere umano presente sulla Terra. Le formiche creano delle colonie che ospitano migliaia di esemplari di dimensioni diverse. All'interno del formicaio, esse hanno un rispettivo ruolo. Chi porta il cibo, chi lo procura, chi difende la tana. Le formiche non possono parlare e hanno un cervello sostanzialmente piccolo, però sono abbastanza evolute da dividersi i ruoli e procreare in quantità. Dal sito www.elementari.net leggiamo Le formiche chi sono, come vivono e come sono organizzate. L'incredibile mondo delle formiche. Insetti dinamici e diligenti, le formiche appaiono così, piccole ai nostri occhi, da sembrare insignificanti. In realtà, il mondo delle formiche è pieno di sorprese. Le formiche si trovano ovunque sulla Terra, anche in quei luoghi in cui l'uomo ostenta sopravvivere. E se pesassimo tutte le formiche del mondo, il loro peso supererebbe quello di tutti gli uomini del mondo. Se gli uomini sulla Terra sono un po' più di 7 miliardi, le formiche sono almeno 10 bilioni. Cugine delle vespe, con cui dividono lo stesso ceppo evolutivo, vivono sulla Terra da più di 150 milioni di anni. Hanno convissuto con i dinosauri, ma nonostante i cambiamenti climatici, non si sono mai estinte. Si sono diffuse ed evoluti in oltre 12.000 specie. Proprio la presenza di tante specie, diverse, rende difficile parlare della vita delle formiche in modo assoluto. L'unico elemento che accomuna tutte le tribù di formiche è la ferrea disciplina delle loro società. Le formiche che mostrano atteggiamenti anomali vengono cacciate dal gruppo o uccise. Decisamente, le formiche non spiccano per la loro personalità, ma piuttosto per la loro operosità e per la loro organizzazione. La formica, nella sua individualità, non conta nulla. Quello che conta è il gruppo. Capita, per esempio, che in alcune tribù, col calare del sole, le formiche si rintanino nel formicaio e che questo venga chiuso ermeticamente dall'esterno per consentire alle formiche all'interno di trascorrere la notte senza pericoli. Per fare questo, ogni sera, alcune formiche abbandonano la vita del formicaio e dopo aver terminato il loro ultimo compito per il gruppo vanno incontro a morte sicura. Allo stesso modo, capita che la formica ferita e in situazione di pericolo non chiede aiuto alla sua tribù per essere salvata, ma avverte alle sue compagne di tenersi lontane, preferendo morire all'abbandono piuttosto che mettere a rischio l'intera comunità. Se una colonna di formiche in viaggio si trova di fronte a una crepa nel terreno, le formiche possono costruire un ponte con il loro corpo e farsi calpestare dalle compagne che così possono superare l'ostacolo senza dover cambiare strada. Una vita di sacrifici, quella delle formiche, è di instancabile dedizione al lavoro. Le formiche vivono in gruppi che possono essere composti da poche decine o da milioni di esemplari. Possono condurre una vita normale senza mai costruire un formicaio e all'occorrenza creando un accampamento direttamente con i loro corpi, tenendosi per le zampe, oppure possono edificare delle vere e proprie città sotterranee con infiniti corridoi e camere. Molto dipende dall'ambiente in cui vivono, dalla presenza di pericoli e di animali nemici da cui nascondersi. La comunicazione nelle formiche Il senso più sviluppato delle formiche è l'olfatto e l'organo sensoriale attraverso cui lo percepiscono sono le antenne. Le formiche comunicano tra di loro rilasciando ferormoni sciodorose che utilizzano per dare un'identità al gruppo di formiche. Ogni formicaio è caratterizzato dal proprio odore di casa ma la comunicazione delle formiche è molto più complessa. Grazie ai ferormoni sono in grado di tracciare percorsi, comunicare la presenza di cibo o il suo esaurimento e allertare le formiche in caso di pericolo. Oltre all'olfatto, le formiche sono dotate di gusto e di tatto. Quando vogliono identificarsi tra di loro si sfregano vicendevolmente le antenne e alcune specie di formiche sono addirittura dotate di organi stridulanti in grado di emettere deboli suoni. Compiti e ruoli delle formiche All'interno del formicaio ogni formica ha il proprio compito e ruolo. La colonna portante della società è costituita dalle operaie che difendono il territorio, allevano i piccoli, cercano e immagrenzinano il cibo, costruiscono il formicaio e lo mantengono pulito e in ordine. La regina è la formica feconda che depone le uova. Il suo compito è quello di dare la vita ad altre formiche ed è anche in grado di decidere il sesso dei nascituri, solitamente femmine operaie, ma una volta all'anno fa venire al mondo nuove giovani regine alate e maschi alati, garantendo la continuità della specie grazie alla nascita di nuovi clan di cui le giovani regine si prenderanno cura. Il compito dei maschi è quello di diventare adulti per poter prendere il volo partecipando alla sciamata del volo nuziale e poi morire dopo l'accoppiamento. Le dimensioni delle formiche variano da 1 a 30 mm a seconda delle diverse specie. Le regine sono più grandi e possono raggiungere anche i 6 cm. Il capo delle formiche è molto robusto. Gli occhi o ocelli sono piccoli e non sono il loro organo più utile. Le antenne posse sul capo sono fondamentali per la comunicazione e le loro mandibole sono straordinariamente robuste, soprattutto quelle dei soldati. Grazie a loro le formiche possono trasportare pesi anche 50 volte superiori a loro o saltare a grande distanza spalancandole e poi richiudendole come una catapulta. Le formiche hanno 6 zampe dotate di un artiglio uncinato che le aiuta ad arrampicarsi verticalmente. La formica regina e i maschi hanno le ali. La regina, dopo aver compiuto il volo nuziale finalizzato alla fecondazione, non utilizzerà più le ali che anzi risulteranno fastidiose nei movimenti sulla terra e se ne ciberà per trarre il nutrimento necessario per allevare la prima covata. L'apparato digerente tra le formiche è divisa in due sacchi che si chiamano ingluvie e ventriglio. Nel primo si accumulano le scorte di nutrimento da condividere con i piccoli e nel secondo transita solo la quota di cibo destinata al nutrimento della formica che viene effettivamente digerita. Molte specie di formiche sono dotate di una cule o un pungiglione che solo in alcune specie è in grado di mettere veleno ma tutte le formiche sono in grado di rilasciare sostanze acide e tossiche che usano come armi di difesa o di offesa. Tutte le formiche sono dotate dell'apparato riproduttivo ma nelle formiche operaie è atrofizzato e non permette la riproduzione a questo compito a cui assolve la regina per tutta la tribù. Le operaie possono però deporre uova che poi utilizzano come nutrimento per le larve. Le uova di formica non hanno il guscio ma solo una membrana. Le larve richiedono molta cura per potersi sviluppare e le operaie le spostano continuamente all'interno e all'esterno del formicaio per offrire loro la temperatura e l'ambiente di cui necessitano. Le operaie nutrono le larve e queste trasudano una sostanza grassa che le formiche leccano con avidità e soddisfazione. Le larve secernano un filo di seta con il quale quando sono mature tessono il bozzolo in cui trascorrono lo stadio di pupa sviluppando lo scheletro esterno che le vedrà finalmente diventare formiche. La vita delle formiche è più lunga di quella che si immagina. Una regina può vivere anche 15-20 anni e le operaie 5-10 anni. Le formiche per quanto insetti interessanti non sono coinquiline apprezzabili dall'uomo. Il loro costante lavorio può arrivare anche a minare le fondamenta delle case e la loro prolificità da caserma può rendere estenuante il loro allontanamento domestico. Quando si preannuncia pioggia tendono a cercare ripari asciutti e dai balconi e dalle finestre non è affatto raro vederle agirarsi in colonne più o meno numerose nell'intento di trovare un rifugio in casa. Non amano attraversare le micropolveri bianche come il talco e anche il sale e un buon deterrente per allontanarle. Per chi abita al piano terra ha un giardino o un terrazzo in estate è anche sinonimo di formiche. Insieme alle zanzare sono questi gli insetti contro i quali si scatenano vere e proprie guerre senza quartiere ma la battaglia può essere green tentando la strada dei rimedi della nonna. La prima regola naturalmente è fare attenzione ai residui di cibo briciole varie e zucchero. Dopo aver individuato i punti di accesso può essere utile spolverare il pavimento con talco argilla o bicarbonato per interrompere il loro passaggio perché sulle superfici polverose le formiche non passano. come repellente invece ottimi gli oli essenziali qualche goccia di olio di neem o di tea tree oil negli angoli è sempre vicino ai passaggi ma non coprire le sostanze di polvere usate le tiene e lontani questi oli. Queste essenze possono anche essere usate mescolandole nell'acqua usata per lavare i pavimenti e per la pulizia dei pavimenti può anche essere usata una miscela di acqua aceto e olio essenziale di limone sgrassa lucida e lontana gli insetti l'aceto è perfetto anche per lavare i piatti e le superfici della cucina così oltre all'igiene si tengono lontane le formiche dalle provviste e dalle stoviglie le formiche infatti sono sensibili agli odori e non amano peperoncino chiodi di garofano menta cannella e paprika come dormono invece le formiche e la fonte di questo articolo è www.animalpedia.it mentre la regina si concede lunghe ore di sonno le operaie fanno solo piccole pause che a occhio umano non offrono loro molto riposo ma cosa succede all'interno del corpo delle formiche quando dormono? le loro quattro ore di riposo giornaliere vanno divise in due tipi di sonno diversi solo una parte del riposo infatti rappresenta un sonno profondo durante questa fase si osserva il movimento delle mandibole e le antenne si riducono di quasi il 65% della loro dimensione ma si muovono in maniera apparentemente involontaria inoltre durante questo sonno profondo possono venire calpestate o colpite da altre formiche operaie all'opera mentre altre vengono spostate affinché un'altra formica possa occupare uno spazio più comodo nessuna di queste situazioni provoca reazioni di irritabilità o a violenze nelle dormienti che continuano il loro breve sonno per poi svegliarsi e continuare a svolgere il loro compito all'interno della comunità le formiche non dormono di notte perché non hanno un senso di notte o giorno come altri animali visto che passano la maggior parte del loro tempo sottoterra in assenza di luce le formiche dormono in qualsiasi momento della giornata adesso vediamo da www.focus.it quanto vive una formica la speranza di vita di una formica varia a seconda della specie cui appartiene su questo influisce la loro routine giornaliera e ovviamente anche le ore di riposo che godono infatti le formiche regine possono vivere tra i 15 e i 30 anni mentre le formiche operaie non superano mai i 3 anni di vita i maschi che servono a fecondare la regina invece sopravvivono solo poche settimane il segreto svela uno studio pubblicato su Science non sarebbe solo la propensione delle operaie a coccolare la regina ma una proteina che sopprime l'insulina ormone che gioca un ruolo fondamentale nel metabolismo e nell'invecchiamento si chiama IMP trattino L2 e viene prodotta durante lo sviluppo delle ovaie la cosa curiosa è che non è necessario essere vera regina per vivere più a lungo ma basta lottare per diventare pseudo regina e il corpo si adatterà di conseguenza ci sono delle lotte di potere quando una regina muore la comunità di formiche si organizza per eleggere una nuova sovrana per farlo le formiche operaie femmine presenti nella colonia combattono tra di loro con le antenne chi vince diventa la nuova pseudo regina acquisendo tutti i comportamenti di una vera regina è quindi responsabile di deporre le uova e il suo corpo pur rimanendo piccolo subisce dei cambiamenti interni che le permettono di vivere a lungo quasi quanto una regina se però la pseudo regina perde la corona rimane anche senza privilegi del potere smette di deporre le uova e torna ad avere una speranza di vita di pochi mesi un saluto a tutti da Davide Pelanda Caffè Italia Radio buona giornata a tutti e a tutte il salotto della civetta con Davide Pelanda